Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e dalla maglietta del Manchester City, Epoca Mancini, perché, come dire, sono sempre stato un grande stimatore del Mancio sia come calciatore sia come allenatore, del resto il Mancio ha fatto molto bene nella sua prima esperienza con l'Inter si è portato a casa a Tre Scudetti, ahimè, la sua seconda esperienza con la beneamata non è andata altrettanto bene ma sta facendo molto, molto, molto bene con la nazionale maggiore, risollevandola dai disastri di Ventura e dalle catastrofi dei senatori, soprattutto un certo pensionato importa, ma vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare allora, 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 come sapete, come forse avrete notato nei commenti agli ultimi video è entrato a far parte della nostra comunità, della banda del metallaro, della cricca dei disinformatori professionisti è entrato a far parte l'amico John Mariani John Mariani è un ingegnere aeronautico italo-americano che mi ha scoperto questo canale per caso si è interessato, ho suscitato il suo interesse come sapete mi ha anche regalato uno straordinario mi ha fatto uno straordinario regalo regalandomi quel bellissimo volume che a vederlo ancora mi commuovo, vi dico la verità comunque sia, John Mariani mi ha chiesto di toccare un argomento particolarmente divertente perché, perché, perché allora, dovete sapere una cosa John è un grande appassionato di storia è un bravo ingegnere perché ha lavorato per la Piper e ha lavorato anche per la Gramman faceva parte del team di ingegneri che ha progettato il Tomcat eh, 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 sì signori sì signori è un istruttore di volo qualificato diciamo che, mettiamola così per lui attraversare l'oceano sul suo aereo è come per noi andare non lo so, è come per noi andare al mare passando per la litoranea cioè, per dire grande pilota ha decine di migliaia di ore di volo alle spalle è un progettista di aerei è un uomo di grande cultura di grande intelligenza ma anche di grande ironia mi ha raccontato nelle nostre conversazioni telefoniche via Whatsapp mi ha detto alcune cose però, mettiamola così da mettersi le mani nei capelli qui abbiamo qui abbiamo un signore John Mariani che ha dedicato la sua vita al volo che è un grande pilota che è un grande pilota di aerei che è un grande esperto di storia dell'aviazione che è un progettista di aerei che è un ingegnere aeronautico ha lavorato per la Piper ha lavorato per la Grumman e ha messo le mani su alcuni dei più importanti aerei della storia dell'aviazione tra cui il Tomcat ok? viene spesso qua in Italia per lavoro per le sue lezioni di volo teoriche e pratiche e spesso e volentieri si è sentito dire ma John ma tu che sei americano dici la verità sulle scie chimiche vi lascio immaginare che cosa può avergli risposto l'amico John Mariani gli ha detto semplicemente sì noi abbiamo sparso a piene mani sull'Italia il rincoglionex perché questo spargono le scie chimiche sui cieli d'Italia il rincoglionex una volta una volta si spargeva il buon vecchio sano e immarcescibile perculato di stronzio che costa meno del bario è meno esotico ed è altrettanto efficace ma purtroppo purtroppo il perculato di stronzio a un certo punto ha fatto come il DDT ha dato a sua effazione e quindi gli irroratori del nuovo ordine mondiale sono ricorsi al nuovo preparato il rincoglionex allora guardate ogni tanto qualcuno mi ha chiesto veramente di parlare delle scie chimiche e di che cosa ne penso e la parola si risolve in una sola in una sola parola cioè tutta la questione si risolve in una sola parola cazzate lo capite l'italiano? cazzate 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 cioè allora scusate una cosa si parla di questa teoria delle scie chimiche che vengono irrorate bario bario litio alluminio tantalio stronzio ecc ok che vengono irrorate per non si sa quali progetti ARP geo ingegneria clandestina avvelenamento della popolazione mondiale per ridurre la popolazione mondiale peccato che dagli anni 90 quando sarebbe cominciato questo programma di irrorazione delle scie chimiche per ridurre la popolazione mondiale la popolazione mondiale sia passata da 4 a 7 miliardi di persone insomma cari signori basterebbe questo per far capire che abbiamo a che fare con una clamorosa marea di cazzate ma 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 qui giunge un attimo in aiuto la mia idea la mia esperienza personale facevo parte di un gruppo facebook che si chiamava le scie chimiche sono una cazzata e che aveva come come motto Stracker Puppa perché Stracker era il soprannome era il nickname di un personaggio sanremese che dal suo terrazzino amatorialmente scrutava e valutava la l'irrorazione delle scie chimiche più che di scie chimiche qua si tratta di scie comiche perché fa ridere il fatto che la CIA la Nato l'ONU l'Unione Europea il sovrano militare ordine di Malta il Vaticano la massoneria il nuovo ordine mondiale il gruppo Bildberg Soros eccetera 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 le famose Demo Pluto Pippo Paperino Crazie giudaico massoniche tanto care al complottismo ok si vedono svelare i loro segretissimi complotti da che? da un geometra fallito che aveva millantato una laurea in architettura inesistente che analizzava con un binocolo cinese da 20 euro dal suo terrazzino a Sanremo gli aerei che volavano a 10.000 metri di quota questo questo personaggione che io ho soprannominato il beria del terrazzino nonché omino dalla testa tonda diciamo ho avuto alcune interazioni con lui pubblicai su su alcuni gruppi facebook antibufale questa foto qui quello che vedete nella sua tenuta di volo è un pilota americano della US Army Air Force il tenente Skinner è a bordo di uno Spitfire Mark 9 in in Tunisia e come vedete il cielo alle sue spalle è velato da nubi che possono sembrare le attuali scie chimiche siamo nel 1943 secondo le teorie del complotto sulle scie chimiche prima del 1990 prima degli anni 90 gli aerei non rilasciavano scie chimiche peccato cari signori che esistano decine se non centinaia e probabilmente migliaia di foto che rappresentano che rappresentano le scie di condensazione rilasciate dagli aerei di tutte le nazionalità italiane inglesi tedeschi francesi russi eccetera 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 che durante il secondo conflitto mondiale volano ai loro bravi 8-10 mila metri di quota lasciandoci dietro le scie bianche di condensazione perché a quella temperatura il vapore acqueo presente nei gas di scarico dei motori condensa immediatamente in ghiaccio perché a quelle quote gela istantaneamente l'acqua contenuta il vapore acqueo contenuto nei gas di scarico che rilasciano le caratteristiche scie bianche e questo dovrebbe essere pacifico a tutti allora dicevo io per avere postato questa foto del tenente del tenente dal US Army Air Force Leonard Skinner a bordo del suo Spitfire sono stato tacciato dal terrazzinaro Sanremese di essere di essere un disinformatore al soldo del nuovo ordine mondiale che voglio nascondere la verità e che sono pagato per coprire i progetti di geo-ingegneria clandestina e disinformare beh oggettivamente essere nella cosiddetta lista degli identified per me era un un punto d'onore e soprattutto come grido di battaglia poter dire forte Stracker puppa ma puppa forte ma puppa veramente tanto puppa a fondo e puppa con convinzione caro caro personaggio dalla testa tonda e dall'inquietante somiglianza con Lavrenti Pavlovich Beria la teoria del complotto sulle scie chimiche lo sanno tutti che chiunque abbia un minimo di cervello si rende conto che non sta in piedi ok prima degli anni 90 gli aerei non rilasciavano scie chimiche peccato una cosa cari signori io ho 53 anni quando ero bambino nelle campagne io vivevo in una casa isolata in campagna quando ero bambino ok da bambino nell'aia davanti a casa mia sotto le due querce che erano davanti casa mia io passavo ore ore e ore tra il 1960 tra il 1966 io sono nato nel 66 diciamo nel 69 70 quando ho cominciato a a capire a ricordare qualcosa fino agli anni 80 quando sono quando ho traslocato e sono venuto a vivere nella casa da cui vi parlo ora io mi ricordo benissimo gli aeroplanini guardavo gli aeroplanini che passavano e che rilasciavano quelle scie bianche però questo qui nella testa di certa gente non entra le fotografie della seconda guerra mondiale decine di fotografie cioè migliaia di fotografie che raffigurano le scie chimiche che raffigurano le scie di condensazione vengono giudicate falsi perché all'epoca gli aerei non rilasciavano le scie cioè giusto per fare un esempio di quanto la teoria delle scie chimiche sia una stronzata 1944 1944 dal mare delle filippine un F 6F Helcat decolla dal ponte della sua portaerei con l'elica che rilascia scie di condensazione però per i teorici della teoria del complotto si tratta di falsificazione per dire insomma fino agli anni 90 gli aerei non rilasciavano scie chimiche Pacifico 1944 Battaglia del mare delle filippine 1944 eh? All'epoca gli aerei non rilasciavano scie chimiche cieli d'Europa 1944 siamo sulla Germania presumibilmente sulla Ruhr nella seconda guerra mondiale gli aerei non rilasciavano scie chimiche non rilasciavano scie di condensazione le scie chimiche sono apparse solo a partire dagli anni 90 perché? perché si tratta di un progetto segreto perché si tratta di un progetto che come dire modifica per modificare il clima per ridurre la popolazione mondiale un progetto insomma siamo sinceri una flotta di migliaia e migliaia di aerei riempiti a tappo di sostanze chimiche per far diminuire la popolazione mondiale un programma che andrebbe avanti dalla metà degli anni 90 e in questi vent'anni che cosa è successo? è successo che la popolazione è aumentata fino a 8 miliardi di persone straker poppa va bene signori scusate cioè la secondo cioè io come dire non essendo un complottista avendo una scarsissima simpatia per 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 i complottisti cioè scusate ancora non esistevano qui siamo qui siamo sui cieli di londra non esistevano scie chimiche prima degli anni 90 le foto tutte le foto precedenti rappresentanti scie di condensazione sono dei falsi allora 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 il fatto è questo qui il fatto è questo qui io lo ammetto sono capo sezione irroratori metalli pesanti per il nuovo ordine mondiale marchigiano per il settore dell'adriatico centro-settentrionale io irroro metalli pesanti nell'atmosfera dopo avere mangiato fagioli tutto qua gente cioè io delle scie chimiche sapevo che prima o poi ne avrei ne avrei dovuto ne avrei dovuto parlare questi sono altri esempi di scie chimiche durante la seconda guerra mondiale ecco ecco cari signori ma 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 sono tutti falsi cioè parliamo di migliaia di fotografie che raffigurano scie di condensazione rilasciate da aerei dai bombardieri americani dai caccia tedeschi dagli aerei inglesi americani anche italiani ci sono anche foto di aerei italiani che rilasciano scie di condensazione ma no tutto falso tutto falsificato cioè decine di migliaia di foto falsificate questa foto che come vedete rappresenta il tenente Skinner a bordo del suo Spitfire in un aeroporto tunisino nel 1943 questa foto è un falso secondo il geometra Sanremese perché sanno tutti che nel 1943 non potevano esistere le scie chimiche che vedevo da dire credeteci credeteci tanto credeteci forte credeteci potentemente continuate continuate cari signori a dare i vostri soldi a dare i vostri soldi al terrazzinato Sanremese e ai suoi sodali continuate pure continuate pure perché perché Strucker Tanker Enemy vuole comperarsi un drone per studiare le scie chimiche in quota peccato che un drone per legge non possa superare mi pare i 200 metri di quota mi pare e che gli aerei che rilasciano scie chimiche volino a 8000 e passa metri insomma 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 se siete coglioni e fatevelo dire siete coglioni siete coglioni se siete coglioni continuate pure ad essere coglioni ma poi dopo non vi lamentate se vi prendono per il culo ok quindi cari signori cari signori cari signori scusate l'intemerata scusate il video estremamente generico sull'argomento ma se dovessi parlare di tutte le storie sulle scie chimiche di quando e come sono nate eccetera eccetera di tutte le teorie del complotto avremmo fatto notte e grave annoiato mentre il il motivo di questo video è uno far fare fare tutti quanti quattro risate insieme alla faccia degli imbecilli due una richiesta che come dire non potevo assolutamente rifiutare perché John John Mariani l'amico John Mariani mi ha detto questa storia delle scie chimiche bisogna parlarne e chi meglio di me disinformatore professionista nonché stipendiato dal nuovo ordine mondiale come irroratore di metalli pesanti per il settore dell'adriatico centro-settentrionale scusate sono ampiamente qualificato per parlarne cari signori e comunque sia dalla fotografia che mi è che mi ha permesso l'ingresso nella lista identified e soprattutto e soprattutto cari signori cari signori dico soltanto una cosa a coloro che seguivano un attimo la faccenda delle vicende del terrazzinato sanremese ora e sempre lo ripeto Strucker Puppa ma Puppa forte Puppa tanto e soprattutto buona galera mio caro sì perché il signor Strucker il terrazzinato sanremese sosia di Beria nonché omino dalla testa tonda è stato condannato dalla magistratura in primo e secondo grado sta aspettando la sentenza in giudicato poi sono cavoli suoi seconda cosa seconda cosa per colpa di questa stronzata dei complotti sulle scie chimiche sono stati segnalati episodi di teste di cazzo che hanno cercato di accecare i piloti di aerei in atterraggio e decollo con dei puntatori laser sì sì certi imbecilli si sono vantati su facebook di avere puntato dei laser dei puntatori laser contro le cabine di aerei in decollo e in atterraggio per bloccare le scie chimiche una volta si riteneva che questo complotto questa teoria del complotto delle scie chimiche fosse un'innocua stronzata ma questo sta diventando pericoloso perché ci rendiamo conto di cosa vuol dire puntare un raggio laser un laser apposta contro la cabina di un aereo in decollo rendete conto di quello che può succedere se il pilota viene accecato testa di cazzo no eh vabbè lasciamo stare comunque sia comunque sia comunque sia ringrazio l'amico John Mariani per avermi svelato i segreti del rincoglio nex e spero che vi siate come dire divertiti a prendere un po' in giro i fenomeni delle scie chimiche spero che avviate capito di chi parlo quando mi riferisco al terrazzinato sanremese sosia di beria e omino dalla testa tonda mi auguro soltanto che come dire anche voi vi siate fatti quattro risate se non vi siete fatti quattro risate e vi siete offesi perché ho osato deridere coloro che credono nelle scie chimiche coloro che credono nel complotto americano nel complotto giudaico nel complotto ripeto è vera questa il complotto delle scie chimiche è in mano a CIA Nato Unione Europea Unione Europea Soros che lo tirano sempre in ballo povero uomo che vi devo dire la massoneria il sovrano militare ordine di Malta il Vaticano Pluto Pippo Paperino Topolino Paperina qui qua e Nonna Papera e Zio Paperone non dimentichiamocelo e la banda Bassotti tutta con Archimede Pitagorico che ha inventato lui le scie chimiche signori veramente ve l'ho detto se credete a ste cose cavoli vostri cavoli vostri beati voi cioè beata incoscienza tutto qui quindi John ti ringrazio per la dritta ti ringrazio per come dire avermi passato il segreto del rincoglio nex che eravamo in difficoltà perché la sezione americana a noi irroratori a noi poveri irroratori italiani la sezione italiana non ci passa il materiale nuovo noi dobbiamo ancora arrangiarci col perculato di strozio tutto qua ah una cosa scommettiamo che ci sarà qualche imbecille che ci prende sul serio quindi cari signori che vi devo dire speriamo spero di avervi fatto fare quattro risate alla faccia degli imbecilli spero che vi siate divertiti spero che come dire Stracker puppi fortemente per il resto dei suoi giorni tutto qua quindi ah altra cosa Stracker quello Samantha Cristoforetti dalla stazione spaziale europea diceva guardate che spettacolo le nubi e Stracker che commenta è geo-ingegneria clandestina studia nota bene Stracker ripeto è un geometra fallito aveva millantato e falsificato di avere una laurea in architettura accampato per anni sulle spalle dei genitori con la pensione con la pensione dei genitori è colmo di denunce che gli costeranno sicuramente la galera detta così com'è per non parlare poi del fatto che dice studia ad una donna che ha una caterva di lauree che pilota gli aerei della nostra aeronautica militare che si è sottoposta ad uno degli addestramenti più massacranti che siano mai stati concepiti pur di essere nello spazio a una donna che oggettivamente come dire ad uno così può fare soltanto una cosa cagarli in testa perché così almeno lo disinfetta tutto qua quindi cari signori io vi ringrazio di nuovo tantissimo per l'attenzione scusate la divagazione scusate le risate scusate le farce scusate gli argomenti cretini però insomma ogni tanto farsi quattro risate ci vuole veramente tutto qui quindi cari signori arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao